Sì, no, niente di serio, uno strappo al puro. E come dovrei chiamarlo, Kitty? Il muscolo vicino al pene? Già, puro non suona tanto male ora, vero? Oh, sì, tu sei in soffia! D'accordo, dobbiamo fissare una puttaveto. Aspettate. Ok, senti, l'indirizzo dei genitori di Greg è 625, fine Hutz. Ci incontriamo lì a mezzogiorno. Allora, se ti va bene possiamo vederci nei sotterranei del palazzo degli uffici federali. Sono pionda e alta due metri in mezzo.